Al di là della strada principale d'ingresso al centro storico, dove fino al 1864 vi era la normanna Porta Terra, è presente la torre dell'orologio, che segna le ore e le ricorda i cittadini di Racale con i rintocchi delle campane. La torre originaria risale al 1123, anno di costruzione delle ormai inesistenti mura urbiche. Nel 1535 la torre venne trasformata in campanile e fu dotata di una campana risalente all'undicesimo secolo. Ma il tragico terremoto del 1743 danneggiò l'intera struttura, fu quindi ricostruita tenendo conto della sua originaria forma quadrata che venne mantenuta in ripresa.